Allora, vediamo come mettere in pratica le cose che ci siamo detti prima, cercando un po' di immaginarci come organizzare il codice del nostro simulatore. Allora, il simulatore si basa, dicevamo, fortemente su una struttura dati ordinata nel tempo, una cosa prioritaria che chiamiamo lista degli eventi o coda degli eventi. E poi un blocco di simulazione, chiamato Simulation Core, dove effettivamente viene simulato il comportamento del sistema. Simulato il comportamento del sistema in risposta ad ogni singolo evento, ad un singolo evento. Quindi cosa fa il simulatore? Lui lavora, vive in un loop, in cui all'interno di questo loop ogni tanto chiede alla coda degli eventi, dimmi qual è il prossimo evento da lavorare. La coda degli eventi dirà, guarda, è successo questo evento in questo istante di tempo, a questo orario, e lui internamente, con la conoscenza del sistema, decide che cosa sta succedendo, quali sono le conseguenze di questo evento, il che può generare ovviamente nuovi eventi che vengono buttati dentro la coda degli eventi. verranno poi, quindi questi eventi sono cose che nel futuro succederanno, io ho capito elaborando questo evento che nel futuro succederanno altre cose e quindi mi annoto che dovrò poi considerare le conseguenze di queste cose quando sarà il momento più opportuno. Il momento più opportuno sarà quando questi stessi eventi verranno poi estratti dalla coda. Ricordiamoci che questa è una semplice lista, ordinata per priorità, ma è sempre una lista, quindi qui dentro non avviene, non capita niente, ciò che metto dentro è esattamente ciò che esce fuori, semplicemente esce fuori in un ordine particolare. Tutta l'elaborazione invece avviene nella parte sottostante, questa sopra è semplicemente una lista ordinata per priorità, cioè ordinata per tempo, per istante di tempo. Cosa fa il simulatore? Il simulatore aggiorna delle variabili che descrivono cosa sta succedendo. Io qui esagerando l'ho chiamato lo stato del mondo o il modello del mondo, ovviamente la parte di mondo simulata da questo simulatore con la precisione a cui questo simulatore la vuole generare. Quindi o se nel nostro caso dei ascensori, lo stato del mondo è la posizione di ciascun ascensore e la posizione dei piani in cui ci sono state delle chiamate e cose di questo genere. Alcune informazioni che descrivono, danno una fotografia istantanea di che cosa sta facendo il sistema in questo istante di tempo. Se parlassimo del pronto soccorso, lo stato del mondo sarebbe l'elenco delle persone in attesa e l'elenco delle persone attualmente in visita da parte dei vari, diciamo così, studi medici, dei vari medici che ci sono nel pronto soccorso stesso. In ogni istante di tempo io posso scattare una fotografia, un'istantanea che mi descrive lo stato del sistema. Lo stato del sistema cambia di conseguenza, come conseguenza dell'elaborazione in un evento. Quindi se qualcuno è sceso dall'ascensore, allora la variabile che mi tiene conto di quali e quante e dove sono le persone sui ascensori viene decrementata, viene cancellata, cambia qualcosa. In un sistema ad eventi discreti lo stato del mondo può cambiare solo in corrispondenza di un evento, non cambia in altri momenti. Cambia istantaneamente, salta da un valore a un altro solamente in certi istanti di tempo. Quindi noi abbiamo il tempo che è discretizzato, il tempo esiste solamente in certi eventi, in corrispondenza degli eventi, e anche lo stato del mondo che è discretizzato, che può cambiare da un valore a un altro valore, staccato, istantaneamente in corrispondenza di questi eventi. Quindi non c'è nulla di continuo questo, che varia continuamente. Lo stato del mondo può essere modificato in risposta ad un evento, può essere letto. Il sistema, il simulatore capisce come reagirà al sistema anche in funzione dello stato del mondo. Quando io premo il bottone e io vado al simulatore andrà a vedere se c'è un ascensore libero. Se c'è un ascensore libero, metto in movimento quello. C'è un ascensore libero, magari è già al piano, ok, apro direttamente la porta. Quindi per capire come elaborare questo evento devo conoscere lo stato del mondo. Conosso lo stato del mondo, decido come elaborare questo evento e quindi di conseguenza genererò gli eventi futuri e aggiornerò di conseguenza lo stato del mondo sulla base di ciò che ho fatto. E poi itero e poi ricomincio. Ovviamente tutta questa iterazione avviene sulla base di alcuni parametri di scenario che impostiamo dall'esterno, che quindi non sono sotto il controllo del simulatore, ma sono delle variabili di ingresso che il simulatore subisce, in qualche modo deve tenere conto, che ne so, il numero di ascensori che abbiamo, il numero di piani, il numero di persone, sono tutti parametri che ci permettono di modulare lo scenario e che quindi in funzione, cioè variando questi parametri, il simulatore andrà, farà delle traiettorie diverse, quindi si comporterà in modo diverso. Poi a me cosa interessa alla fine della giornata? Chiaramente non mi interessa il numero di esattamente quali e quanti viaggi hanno fatto gli ascensori simulati, mi interesseranno dei valori più sintetici, dei valori più riassuntivi, delle misure chiave che mi dicano ad esempio, parlavamo nell'ora precedente, il tempo medio di attesa e il consumo totale di energia della giornata. Tutto questo simulatore alla fine simula tutti i meccanismi di funzionamento del sistema, ma alla fine mi deve dare dei numeri, pochi numeri importanti, in modo che io poi possa giocare variando i parametri dello scenario e vedendo che impatto hanno sulle misure più importanti di interesse. E da lì poi posso usare questo gioco per determinare quali siano i parametri effettivi che dovrò usare nella progettazione del sistema. Quindi questa macchinetta qui che gira e fa evolvere il mondo secondo certe regole mi serve semplicemente per calcolare alcune misure chiave come funzione di alcuni parametri. Solo che questa funzione analiticamente non lo sappiamo scrivere e quindi la calcoliamo in modo approssimato. Ecco la lista degli eventi alla fine altro non è che appunto una coda prioritaria in cui la priorità è data dal tempo, quindi sicuramente la rappresentò con degli oggetti di cui una proprietà sarà sicuramente il tempo. Tra l'altro il tempo non c'entra nulla col tempo reale, è un tempo in cui sto simulando l'evoluzione di questo sistema. Questo futuro simulato, quindi la coda degli eventi conterrà solamente eventi futuri che devono ancora accadere, che io prevedo che accadranno sulla base del mio modello di calcolo. E poi probabilmente conterrà anche dell'informazione aggiuntiva che mi descrive che cosa starà succedendo, uso del futuro, ad esempio è stato chiamato l'ascensore, oppure l'ascensore è arrivato, una persona è salita, una persona è scesa, quindi gli eventi che possono accadere sono di diverse tipologie, quindi avrò un elenco di tipi possibili e dei valori, cioè è stato chiamato sì ma che piano al piano 5, è arrivato ma dove? Al piano 7. Quindi tipicamente avrò all'interno dell'oggetto che rappresenta l'evento sempre un valore intero reale che mi rappresenta il tempo, sempre, quasi sempre un valore discreto che mi rappresenta il tipo di evento e poi informazioni aggiuntive che dipenderanno dal tipo di evento. La quota prioritaria contiene questi eventi e il simulatore è interessato sempre solo al primo. Estraggo il primo, vado a vedere che tempo è, quindi l'orologio, se prima era al tempo 3, estraendo questo primo evento, salterà di colpo il tempo 7, se c'è che è successo tra il 3 e il 7 non lo vedo, poi dopo salterà il tempo 9 e c'è che è successo tra 7 e 9 non lo vedo. Estraggo il 7, dicevamo, vado a vedere che cosa è successo, vado a vedere quali sono i suoi valori e poi eventualmente aggiungo nuovi eventi. La simulazione si ferma quando la coda è vuota, quando la coda degli eventi è vuota non c'è più nulla da fare, il simulatore non può inventarsi nulla. Oppure si ferma quando lo dico io. Se ci sono delle simulazioni che in realtà di per sé si genererebbero degli eventi in continuo, quindi non si fermerebbero mai, decido io di fermarla, che ne so, quando il tempo è arrivato a 10.000, quando ho simulato 5.000 eventi. Decido io un criterio di stop che sia aggiuntivo rispetto allo svuotamento della lista. Chiaramente se la lista è vuota non posso andare avanti, mi fermo lì. Però possono essersi gli altri criteri che dipendono dal tipo di simulazione che voglio fare. Quindi dal punto di vista di un oggetto Java, questa classe simulatore come è fatta? Vabbè, dovrà avere una classe che contiene degli oggetti privati, le proprietà di cui sicuramente uno è la coda degli eventi, gestita dalla classe simulatore, sarà una priority queue di oggetti di tipo evento che dobbiamo definire. Poi dovrà avere una serie di proprietà che rappresentano lo stato del mondo, chiamiamolo pure così, cioè tutte le variabili di interesse che rappresentano lo stato corrente del sistema. Poi dovrà avere dei metodi, io qua ho inventato dei nomi, set parameter qualcosa, cioè dei metodi per impostare dall'esterno per dire al simulatore quali sono i valori di questi parametri da simulare. Questi valori qua li possiamo dare nel costruttore oppure possiamo avere dei setter per impostarli, possono avere un valore di default, ma sono valori che dall'esterno si possono solamente impostare. E alla fine avremo delle misure, dei getter che diranno quali sono i valori delle misure effettivamente calcolate. Quindi dal punto di vista di chi usa il simulatore semplicemente dice che questi sono i parametri di lavoro, vai, run, fai tutta la tua simulazione e dammi alla fine i risultati che ho ottenuto. Poi magari interattivamente l'utente cambia qualche cosa e partirà una simulazione nuova con dei parametri diversi. E io qui ho aggiunto anche un altro metodo prima del run, prima di fare run, chiaramente se io faccio run con la coda vuota l'esecuzione si ferma subito. Quindi in qualche modo dovrebbe esserci un meccanismo per alimentare la coda almeno all'inizio della simulazione. Quindi all'inizio della simulazione questo caricamento iniziale della coda può essere, ti do un elenco di eventi iniziali, ti do una distribuzione statistica nel tempo dell'arrivo delle richieste, ti do qualche meccanismo che comincia a prepopolare la coda con alcune richieste iniziali. Poi questo meccanismo qua di caricamento della coda possiamo decidere se il simulatore se la carica da solo oppure se dall'esterno che ti passano gli eventi che voglio simulare. Però sicuramente ci dovrà essere un caricamento iniziale prima dell'avvio vero e proprio della simulazione che qui ho riassunto da questo metodo run. E il metodo run non farà altro che estrarre un elemento dalla coda e poi elaborare questo singolo evento. Quindi qua ho immaginato un metodo tipo process event che prende un evento e decide che cosa fare. Quindi noi abbiamo all'interno di questa classe delle variabili che rappresentano lo stato del mondo, che possono influenzare come viene elaborato l'evento, quindi a seconda di cosa sta succedendo, di qual è questo valore, l'evento viene elaborato in un modo oppure in un altro, la richiesta viene accettata o viene rifiutata ad esempio e vengono ovviamente aggiornate, deve evolvere questo stato del mondo ed evolvere solamente in corrispondenza degli eventi come abbiamo detto. Queste cose qua le vediamo direttamente magari nel codice. quindi proviamo a vedere un primo esempio molto semplice di sistema da simulare, così poi entriamo nel pratico nel capire come è fatta questa classe simulatore. Un esempio di un car sharing, noleggio auto. Allora immaginiamo di voler aprire un'attività di noleggio auto e ovviamente dobbiamo investire in un certo numero di auto da noleggiare, no? NC. Io ho un numero di auto che ho acquistato e che metto a disposizione delle persone che la vogliono noleggiare. E poi avrò della clientela e ipotizzo che i clienti arrivino così, con una certa distribuzione temporale. Il caso più semplice che possiamo fare è che i clienti arrivino con regolarità, cioè un cliente nuovo ogni tot minuti, che non è per nulla realistico, però è un punto di partenza. Cominciamo a partire da lì, poi da lì potremmo poi migliorarlo dicendo la densità di distribuzione dell'arrivo degli utenti avrà un certo andamento in funzione dell'ora e allora lo possiamo modificare. Però partiamo dal modello semplice. Quindi arriva un cliente, arrivano regolarmente ogni tot minuti, 5, 10, 20, 30. Questo è un parametro che possiamo provare a cambiare. E cosa succede? Il cliente può arrivare e possono succedere due cose. O io ho ancora delle auto disponibili da noleggiargli e allora mi annoleggio, oppure non ce l'ho e allora gli dico mi dispiace. E ho creato un cliente insoddisfatto. Se la noleggio so che quell'auto lì non ce l'ho più, quindi il mio modello del mondo cambia, non è più 10 auto in garage ma ne sono più 9. E però so che quest'auto mi ritornerà a una certa ora dopo un certo tempo di viaggio che lui ha speso. E so che quest'auto ritorna, prevedo che quest'auto ritornerà. Anche qua il tempo di viaggio potrebbe essere, non è mai una cosa esattamente nota, non so mai esattamente a che ora restituirà quell'auto. Possiamo anche concordare un'ora ma magari un po' in ritardo, magari un po' in anticipo. Allora magari decidiamo come prima simulazione di simulare il fatto che i clienti arrivino uno ogni 10 minuti e che ciascuna cliente che prende un'auto mi restituisca o dopo un'ora o dopo due o dopo tre in modo casuale. La variabile casuale uniforme che può avere i valori un'ora, due ore, tre ore. Lo scopo della simulazione è di calcolare il numero di clienti non soddisfatti alla fine di una giornata di lavoro come funziona il numero di auto che ho. Quante auto devo comprare, qual è il trade off tra la soddisfazione dei clienti e l'investimento in auto che devo fare. Con queste assunzioni molto draconiane sul comportamento degli utenti. Abbiamo dei primi valori, poi da lì potremmo raffinarli, volendo. Ok, quindi questo è il nostro scenario da simulare. Io ho creato nell'intervallo un progetto vuoto che ho chiamato noleggio auto. Possiamo creare, possiamo farci una classe model, un package model con una classe simulatore. Package model. Dentro questo package model mettiamo una classe simulatore. Ok. Quindi cosa fa questo simulatore? Avrà delle variabili, dei parametri di ingresso, avrà delle valori calcolate in uscita, che sono quelli che vede, diciamo così, l'utilizzatore di questa classe. Poi avrà delle variabili che rappresentano lo stato del mondo e poi, non ultima, avrà la coda degli eventi. Qui parliamo di proprietà di questa classe, i valori che deve gestire. E questo è valido per tutti i simulatori che faremo. Poi, quali variabili ci mettiamo lì dentro, chiaramente dipende da ciascuno. Allora, i parametri di ingresso, nel nostro caso quali sono? Vabbè, fondamentale è quello sul numero di auto. Private, int, nc, number of cars. Poi abbiamo il numero, il team, il numero di minuti, entro cui si chiama team, sì, il numero di minuti che intercorrono tra l'arrivo di un cliente nell'arrivo, un potenziale cliente e l'arrivo del successivo. E T3 in realtà è un numero casuale, quindi non lo posso rappresentare con una costante. Questo è il vero parametro di simulazione. Quest'altra è una costante interna che però, volendo, potremmo rendere impostabile anche dall'esterno. Quindi potremmo dargli un valore di default, adesso uguale a 10, ma poi anche fondere un setter in modo che poi chi usa questa classe, se vuole imposta un valore personalizzato, se non vuole invece lo lascia uguale al valore di default. Allora, qui abbiamo una prima scelta da fare, perché il nostro simulatore lavora col tempo. Allora, come rappresentiamo il tempo? Qui abbiamo due scelte, due modi diversi. O il tempo lo rappresentiamo semplicemente in modo lineare, quindi con un numero intero, che mi rappresenta ad esempio i minuti dall'apertura del negozio, del noleggio. E quindi quando apro avrò il minuto zero, tra mezz'ora avrò il minuto 1800, tra un'ora avrò il minuto 3600, eh già, e avrò il minuto 30, vado in minuti, non in secondi. Tra un'ora avrò il minuto 60 e così via. Alla fine giornata, se la giornata lavorativa dura otto ore, avrò il minuto 6 per 8, 480. Quindi mi crea una misura del tempo lineare mia. In alcuni casi può essere più semplice. Oppure uso delle variabili temporali Java normali. Quindi il tempo sarà un local time. Non mi interessa il giorno, mi interessa solamente l'orario, perché la simulazione sta all'interno di un'unica giornata. Quindi mi basta un local time, non mi serve un local date time. E il local time inizierà alle 8, al mattino sarà alle 8.00, il primo evento che ci metto dentro sarà alle 8, l'ultimo evento sarà 8 più 8, alle 16, alle 20, insomma, quando voglio terminare. Quindi posso avere una nozione più esplicita del tempo. Che secondo me è meglio in questo caso. Ci rendiamo conto meglio di che cosa succede. Allora, in questo caso, l'intervallo, se io decido di usare del tempo reale nel mio simulatore, degli oggetti di tipo time, questo 10 è un intervallo di tempo. Se non ho sbaglio che si chiamava duration, nella libreria Java.time. Questa classe duration misura una quantità o un ammontare di tempo in termini di secondi e nanosecondi, che è appunto un intervallo di tempo, un ammontare di tempo. Non è un tempo, non è un distante, ma è una durata. E quindi potrei dire duration.from.ofminutes.10. Quindi fatichiamo un peggio di più per creare gli oggetti temporali, ma poi è anche più chiaro cosa stiamo facendo. Quindi anziché dire un int 10, che poi 10 non sappiamo se sono secondi o minuti e rischiamo poi di sbagliare le conversioni, come ho fatto io primamente quando ho detto che 1800 minuti era mezz'ora, usiamo gli oggetti veri e propri. e possiamo anche a questo punto, duration, quello che lui si chiamava t travel, potrebbe essere un'ora, sapendo che poi può essere uno, due o tre, oltretanto. Questo ammontare che è la durata minima del noleggio. Quindi ho definito delle costanti e questa in realtà non ha un valore di default perché effettivamente è ciò che deve essere impostato dall'esterno. E che cosa viene calcolato in uscita? Alla fine lo scopo di questo simulatore è quello di calcolare, diceva, il numero di clienti insoddisfatti. Il numero di clienti insoddisfatti da solo non vuol dire nulla se non so quanti clienti si sono presentati. Quindi mi servirà il numero di clienti totali e il numero di clienti insoddisfatti tra quelli totali. Perché se non mi erano sette insoddisfatti, non sono venuti mille, va bene. Se erano sette insoddisfatti, non sono venuti dieci, non va così bene. Quindi mi servirà declinare questa informazione in due variabili, private int clienti totali, n clienti totali, ops qui siamo in Java, quindi in teoria si dovrebbe scrivere così, e un altro numero clienti insoddisfatti. Questo c'è che dobbiamo calcolare, private con la T. Qual è l'informazione che ci serve per poter gestire questa simulazione? Allora, poi questo stato del mondo, di solito possiamo ragionarci, poi spesso facciamo un'ipotesi iniziale, poi andremo a aggiungere delle cose, quando poi andremo a implementare i veri metodi di informazione vera e propria. Nel senso che non sempre si riesce a pensare all'inizio esattamente cosa serve per descrivere il sistema. Possiamo cominciare. Allora, sicuramente qui ci stanno le variabili che descrivono, che servono al simulatore per capire come evolve il sistema, oltre a quelle che abbiamo già visto che sono dei parametri. Allora, di sicuro serve sapere quante auto ho in garage. Cioè, al mattino ne avrò NC. Ma poi a una certa ora, in questo istante di tempo simulato, sono le 9.41 simulate, quante auto ci sono? Allora, io posso, e mi serve perché se il numero di auto che ho ancora disponibile fosse zero, arriva un nuovo cliente e gli devo dire no. Se il numero di auto invece fosse maggiore di zero, gli devo dire sì. Quindi è un parametro fondamentale questo. E tra l'altro ogni volta che do un'auto a noleggio, questo parametro deve decrementarsi. Ogni volta che un'auto a noleggio mi rientra in casa, questo parametro deve incrementarsi. Quindi descrive lo stato del mio sistema. Per differenza io so quante auto avrò fuori. Quindi posso scegliere se qui indicare il numero di auto presenti o il numero di auto assenti. È uguale. Poi, dove sono queste auto? Chi ce l'ha? Cosa stanno facendo? Non mi interessa. Chi è il cliente? Cioè nel modello che abbiamo, talmente semplice, non mi interessa ancora. Poi se mi dovesse interessare lo complicheremo, ma per ora non mi serve sapere. Anche quando mi ritorno una macchina, a me mi interessa sapere chi mi l'ha restituita. Mi interessa solo per che la macchina è ritornata e quindi adesso ce l'ho. Adesso ce l'ho e quindi se arrivasse un nuovo cliente gliela posso dare. Poiché l'abbere restituita il primo, il secondo cliente che era arrivato al mattino, non mi fa differenza. È chiaro che fa differenza in reale, sì, perché devo far pagare Tizio anziché far pagare Caio, è una quantità diversa. Ma i fini del calco di questo indicatore non mi fa differenza. E quindi non ho modello. Prima parlavamo di modelli approssimati, proprio che stiamo tagliando via tutto ciò che non è assolutamente essenziale per calcolare questo indicatore. Quindi in questo caso credo a prima vista così che l'unico stato del mondo che mi serva sia il numero di auto disponibili. Adesso. e poi avrò il vero cuore del simulatore che è la coda degli eventi, che sarà una priority queue di oggetti di tipo evento. E allora ci chiediamo che cosa contengono questi eventi, questi oggetti. Allora posso creare una nuova classe, posso, devo, creare una nuova classe, chiamiamola pure event. che contenga le informazioni sull'evento stesso. Allora, l'evento cosa contiene? Contiene due più uno campi. Il primo campo è sempre il tempo. Private. A questo punto abbiamo deciso di usare il tempo reale, quindi un local time, questo. Time. Poi un tipo di evento, cosa sta succedendo? Decidiamo adesso come definirlo. E poi eventuali informazioni aggiuntive. Eventuali informazioni aggiuntive. in questo caso non ne vedo. Cioè, il tipo di evento cosa potrà essere? Potrà essere l'auto, arriva un cliente, è un evento. Arriva un nuovo cliente. A una certa ora. Alle 9.47 arriva un cliente. Mi interessano altre informazioni? No. Sul cliente non mi interessa. Poi posso trovare l'evento, allora a questo punto, quando arriva il cliente, io so che o gli do l'auto o non gli la do. Va bene. Se gli do l'auto, creerò un altro evento di tipo auto ritorna. Nel futuro ritornerà quest'auto. Il fatto che l'auto esce dal garage non necessariamente mi richiede un tipo di evento speciale. Perché è contestuale, avviene nello stesso istante di tempo in cui si presenta il cliente. Quindi fa parte dell'elaborazione del singolo cliente. Quindi per tenere le cose al minimo questo tipo di evento potrà essere nuovo cliente oppure auto rientra. Non mi sembra che ci siano altri eventi importanti da modellare. Come sempre, partiamo dalla versione semplice e poi se uno vuole complicarla la può sempre complicare. Allora, di che tipo è questa cosa qua? Eh, può essere, in questo caso potrebbe essere un booleano, no? Vero o falso? Però poco leggibile. O una stringa? Oppure usiamo, visto che deve appartenere a un valore tra un insieme predefinito di valori, possiamo definire ad esempio una public, una enumerazione che possiamo chiamare event type. Le numerazioni, non so se l'avete visto già nel corso precedente, sono delle sorte di classi degeneri che definiscono solo una serie di costanti. anziché definire tante costanti del tipo public int che ne so, nuovo cliente uguale 0, public int autoresituita uguale 1, eccetera, definiscono le costanti in modo simbolico dandogli un tipo di dato e questo tipo di dato controlla che ovviamente la costante sia una di quelle che ho elencato qua. quindi diciamo che le costanti possono chiamarsi nuovo cliente e autoresituita. In questo caso non assegno dei valori quindi il nuovo cliente viene assegnato un 9 e la costante vale 1. Se volessi impostare dei valori potrei mettere uguale per inizializzarli ma normalmente non mi serve. Li uso come valori simbolici distinti. Un enum la posso definire come fosse una classe quindi creo un nuovo file e definisco dentro un'enumerazione è un tipo del genere di classe che contiene solo costanti pubbliche. Oppure in questo caso io l'ho definita annidata dentro la classe evento così è accessibile solamente diciamo così è accessibile a chi conosce la classe evento ma è chiaro che è legata molto a questa classe quindi dall'interno di questa classe non ho problemi a dire che questo parametro tipo è un event type e quindi può essere uno di questi valori. allora questo è l'oggetto in assenza di informazioni aggiuntive è l'oggetto che metteremo nella coda prioritaria. Per poterlo usare devo ovviamente farlo diventare un oggetto vero e proprio quindi gli do il costruttore gli darò il get resetter l'hashcode equals e il compare to quindi costruttore ok poi aggiungo i vari get resetter dove sei andato? ecco qua get resetter qua tutto e poi gli aggiungerò hashcode equals in questo caso metto sia tempo che tipo perché potrei avere eventi diversi allo stesso tempo e quindi il time da solo non mi basta per distinguere gli eventi tra di loro e poi infine devo dicevamo aggiungere il più importante che è compare to quindi per renderlo implements comparable di rent dico che devo implementare l'elemento comparable deve essere confrontabile quindi devo implementare il metodo compare to che non farà altro che confrontare i tempi quindi delego il confronto alla classe time alla classe l'attributo time quindi sarà return this punto time compare to other punto time il criterio di ordinamento è esattamente l'ordinamento per tempo dato dall'attributo local time che è un local time quindi verranno prima gli eventi che hanno un tempo inferiore e nel simulatore degli eventi sarà sempre così no il criterio di ordinamento è quello temporale quindi questa classe qui come dicevamo non ha nulla se non time type il type fa parte di un insieme di valori discreti possibili e con questa informazione di questa classe evento possiamo tornare nel nostro simulatore a definire a costruire la coda degli eventi propriamente detta quindi sarà una private di nuovo una coda prioritaria priority queue ovviamente è generica e il valore del generico è l'oggetto che ci inserisco quindi sarà event e la chiamo con tanta fantasia queue queste sono le variabili principali di questa classe simulatore poi magari scopriamo che ci servono altre ma cerchiamo sempre però di definirle in queste quattro categorie adesso ci sono i metodi allora per le prime due categorie di variabili i metodi sono molto semplici nel senso che ci servono i setter per le prime e i getter per le seconde perché dall'esterno devono poter impostare quelle che sono i parametri di simulazione e poter leggere i risultati della simulazione stessa che ci sono facili costruttore mi basta costruttore potremmo costruire un costruttore che permetta già di specificare nc quando costruiamo la classe quindi noi possiamo creare un costruttore public simulatore che riceve un numero di cars come valore iniziale visto che è l'unico valore non inizializzato ti obbligo a dirmelo quando costruisci la classe e poi dentro il simulatore dentro il costruttore potremmo fare altre cose poi appunto ho gli altri metodi per poter impostare questi valori anche dopo il costruttore quindi creo dei setter sorgente genera getter setter allora per nc mi serve un setter per t mi serve un setter per ttravel mi serve un setter per i valori invece di ritorno clienti soddisfatti clienti totali mi serve solamente il get ovviamente dall'esterno non possono essere modificati ma dall'interno sì le altre sono variabili private quindi non devo rendere accessibili dall'esterno ok quindi ci siamo fatti generare il get n clienti totali il get numero di clienti insoddisfatti set numero di cars numero di tempo di arrivo e tempo di viaggio ok e questo l'ha fatto Eclipse non ci dobbiamo preoccupare noi invece dobbiamo preoccuparci degli altri metodi che sono quelli di simulazione vera e propria e il più importante è un metodo del run cioè esegui la simulazione ovviamente adesso ci stiamo immaginando la coda vuota quindi il run non sa che cosa fare ma poi popoleremo la coda la coda la quale ovviamente è un oggetto che dobbiamo creare non l'abbiamo solo dichiarata quindi conviene nel costruttore creare la coda come ovviamente una nuova priority queue vuota di tipo event allora cosa fa il metodo run il metodo run esegue la simulazione quindi lui nella sua vita è un grosso loop in cui dice finché c'è roba nella coda prioritaria ho qualcosa da fare quindi finché la coda non è vuota non è vuota is empty not is empty devo processare il prossimo evento event è uguale this.q .pol ottiene e rimuove la testa della coda o ritorno a null se questa coda è vuota ma noi abbiamo appena controllato che non è vuota estrae un evento ed elabora un evento quindi possiamo delegare l'elaborazione dell'evento a un altro metodo a cui passo questo evento e dici ok senti caro metodo process event vai a vedere cosa è successo e decidi basta questo è il metodo run in questo caso molto semplice tutto il lavoro lo farà quel process event che invece è un metodo più di basso livello facciamolo pure creare qua privato benissimo no questo qui sta solo togliendo dalla coda quindi se c'è qualcosa dentro lo estrae lo estrae lo estrae uno per volta e lo estrarrà in ordine di tempo questo è tutto il lavoro che fa la coda prioritaria in automatico per noi poi una volta che abbiamo un evento cosa dobbiamo dire in qualche modo il tempo di simulazione è gestito in modo sottinteso implicito che ora è adesso è l'ora dell'evento attuale ogni volta che viene stato un evento quello è ciò che mi dice il tempo attuale e l'evento può essere di due tipi quindi ad esempio potrei usare in modo molto semplice uno switch sul tipo di evento e appunto get type e dico senti a seconda che il tipo di evento sia ecco il fatto di aver definito il type come una numerazione permette di far sì che quando io faccio qua il controspazio per l'autocompletamento mi dà già i valori che posso inserire e posso inserire solo quelli e lui si accorta se mi dimentico qualcuno e mi dà errore quindi nuovo cliente è una possibilità break altrimenti case l'altro autostituita che è l'altra possibilità e qui dentro ci metterò il codice che dice cosa succede se arriva un nuovo cliente e dice cosa succede se viene restituita un'auto in questo caso ho fatto uno switch sul tipo di oggetto sul campo type in questo caso avevo solamente due possibilità quindi è abbastanza semplice se vuoi anche fare semplicemente una if se nel caso in cui avessimo dei tipi di eventi più complicati in realtà potremmo usare anche la programmazione oggetti creando tante sottoclassi di evento e facendo in modo che ogni evento abbia un suo metodo process che sappia che cosa fare la sottoclasse però per evitare questi switch sulla tipologia si può suonare sottoclassi ciascuna ha il proprio metodo e quindi dal metodo run chiamerò event.processati da solo e lui a seconda della sottoclasse a cui appartiene sa che cosa deve fare quando effettivamente avessimo molti casi potrebbe convenire magari gli esercizi più complicati proveremo a vederli anche con la sottoclasse altrimenti lo stiamo facendo in modo grezzo facendo una serie di if sul valore di un parametro allora parto da auto restituita cosa devo fare quando un cliente mi restituisce un'auto devo aggiornare il modello del mondo allora devo capire se l'azione che devo compiere dipende in qualche modo dai parametri o dal modello del mondo attuale no quindi devo fare sempre la stessa cosa incrementare il numero di auto disponibili quando restituisci un'auto incremento il numero di auto disponibili devo in qualche modo modificare questi valori no quindi l'unica cosa che devo fare qua dentro è this punto numero di auto disponibili no auto disponibili più più mi è rientrata un'auto non ho bisogno di aggiornare le variabili calcolate non ho bisogno di generare nuovi eventi cioè in conseguenza del rientro di quest'auto devo prevedere nuovi clienti o nuove auto restituite no è finito lì invece sul nuovo cliente è un po' diverso perché quando arriva un nuovo cliente può darsi che io abbia un'auto da dargli oppure no sicuramente se è arrivato un nuovo cliente il numero di clienti totali si incrementa perché è arrivato poi può essere soddisfatto o no adesso lo vediamo lo vediamo in base che cosa in base allo stato del mondo se lo stato del mondo mi dice che ho ancora auto disponibili allora è un cliente soddisfatto altrimenti è un cliente insoddisfatto e allora ops poi sono andato col mouse allora dovrò dire che il numero di clienti insoddisfatti adesso ne è uno in più quindi l'elaborazione di un evento dipende dallo stato attuale del sistema se invece ho almeno un'auto disponibile me la posso prestare quindi se gliela presto vuol dire che non ce l'ho più a decremento e prevedo che quest'auto rientrerà quando e beh dovrò creare un nuovo evento di tipo rientro auto impostato in un tempo pari al tempo attuale più uno due tre volte la durata di travel quindi come prima cosa dovrò estrarre il numero casuale tra uno e tre come mat.random non c'è un run dentro non mi ricordo mai mat.random esiste e mi dà un numero casuale tra 0 e 1 non mi ricordo se esiste già un metodo che mi restituisce i numeri interi vabbè int il numero di ore sarà allora mat.random mi dà un numero tra 0 e 1 io quindi lo voglio tra 0 e 3 anzi tra 1 e 3 ok quindi un intervallo 0 e 1 lo moltiplico per 3 mi dà un intervallo da 0 e 3 estremo 0 incluso 3 escluso quando diventa tronco intero sarà 0 oppure 1 oppure 2 ci sono 1 e allora il numero di ore è 1 oppure 2 oppure 3 questa è la stocasticità che ho in questo modello quindi avrò un'ora di arrivo un'ora di arrivo di rientro dell'auto che sarà pari all'ora attuale allora diventa che cos'è è l'ora di adesso è l'ora di adesso chi è che me lo dice che ora è l'evento e.gettime plus la durata non so se c'è un times non si può moltiplicare allora facciamo così devo dare un numero di ore moltiplicando per quella cosa lì quindi è una duration punto of hours ore moltiplicato di travel punto to hours sto facendo un giro storto perché ho scelto di usare una duration quindi ti travel una duration in ore la converto in ore la moltiplico per il numero di ore che ho e ricreo un oggetto duration potevo pensarci meglio ma la cosa chiave è che io ho qua una durata che può essere un duration di un'ora duration di due ore duration di tre ore e sommo al tempo corrente con questo plus e mi dà un nuovo local time il plus prende un local time e ci aggiunge un temporal amount in questo caso una duration quindi aggiungo al tempo corrente una durata che ho calcolato in modo pseudo casuale tra tre valori possibili e allora a questo punto posso creare un nuovo evento dicendo che io so che quest'auto che ho appena analogiato rientrerà creare un nuovo evento significa semplicemente aggiungere alla coda un nuovo oggetto di tipo evento e il costruttore cosa richiede? richiede un time e un type il time è l'ora di rientro il type sarà la costante la costante auto-restituita fatto adesso quindi abbiamo il metodo run che lavora la coda nel caso in cui l'evento sia un nuovo cliente si genera un nuovo evento a un certo istante di tempo non mi devo preoccupare se questo evento è primo o dopo altri eventi perché ci pensa la coda prioritaria a inserirlo nel punto giusto e so che dovrà essere restituita l'auto e quindi prima o poi questo stesso evento che ho inserito qui con questa ad me lo ritroverò qua e lo elaborerò alla fine della giornata dovrei avere il numero di auto giusta ok cosa manca manca il caricamento iniziale degli eventi quindi prima di attivare la simulazione devo repopolare la coda degli eventi come? beh potrò simulare magari dalle 8 del mattino alle 16 del pomeriggio l'arrivo di clienti ogni 10 minuti e quindi inserirò nella coda degli eventi tutti questi arrivi di clienti quindi possiamo dire public carica coda void in cui cosa farò inserisco nella coda tanti eventi a partire da un'ora di partenza quindi local time ora che saranno ad esempio l'8 del mattino quindi local time of 8.0 ok prende ora e minuti e poi finché l'ora è precedente all'ora di chiusura quindi ora punto before is before dell'ora di chiusura quindi che può essere un local time dal 16 ad esempio finché l'ora è precedente all'orario di chiusura aggiungo un evento in cui arriva un cliente in questo istante di tempo quindi this.cue punto add new event tempo e tipo il tempo è l'ora il tipo sarà il nuovo cliente e poi incremento l'ora ora uguale ora punto plus thing thing era la costante che avevamo i 10 minuti la duration che rappresentava i 10 minuti per default facciamo scuola fatemi chiamare carica eventi carica coda non mi piace o eventi iniziali insomma quindi questo vuol dire che prima di chiamare il metodo run se chiamo questo metodo lui precarica tutti i clienti tutti gli orari di arrivo di questi clienti e poi run deciderà che cosa succederà a questi poveretti a questo punto possiamo provare a testare il tutto con una bella classe test simulator simulatore col suo main in cui creerò un nuovo simulatore sim uguale new simulatore in cui devo passare il numero di auto che simulo allora noi abbiamo una roba in cui arrivano 6 clienti all'ora ok e tengono le auto fuori una due o tre ore diciamo in media due ore quindi un numero ragionevole di auto con cui partire potrebbe essere 12 6 clienti all'ora tengo l'auto due ore ogni due ore mi vanno fuori 12 auto ma mediamente mi rientrano 12 auto forse proviamo una simulazione prendiamo prendiamo un valore iniziale e vediamo cosa succede a questo punto chiedo al simulatore di caricare gli eventi e poi di eseguire la simulazione qua in mezzo prima di fare i caricamenti in run volendo avrei potuto modificare i parametri team i parametri di tre parametri della simulazione team travel e nc nc in realtà l'abbiamo già appena specificato quindi e alla fine possiamo dire allora ho simulato su system.out punto printline posso dire clienti quanti sono stati sim.get numero clienti totali più virgolette spazio di cui un certo numero qual è questo numero? di cui sim.get numero clienti insoddisfatti insoddisfatti guarda n e punto e virgola ma no non fare così quindi stampa clienti 800 di cui tanti toti insoddisfatti e proviamo a vedere cosa succede c'è qualcosa che sto lavorando abbastanza male se su 48 clienti ne ho 48 insoddisfatti è certo perché perché i clienti sono insoddisfatti perché io decido che non ci sono autodisponibili ma autodisponibili non l'ho mai inizializzato quindi quando creo il simulatore dovrò anche inizializzare lo stato del mondo altrimenti il sistema non sa quindi una volta che so che ho nc auto allora anche le autodisponibili sono nc iniziali il valore iniziale delle autodisponibili non avevo messo questo questo rimaneva a zero e quindi tutti i clienti venivano rimbalzati lo stato del mondo all'inizio della simulazione dipende del valore dei parametri a questo punto dovrebbe funzionare meglio 48 clienti di cui 5 insoddisfatti e se faccio run più volte vedete che il numero di insoddisfatti cambia un pochino 3 4 5 6 ovviamente perché il numero di le ore per cui l'auto è fuori in questo caso è andata bene la giornata avevo tutti i clienti che gli hanno restituito l'auto in fretta e altre giornate invece vanno meglio vanno meno bene quindi volendo usando questo simulatore uno dovrebbe poiché è un modello leggermente stocastico il valore di uscita non ha senso preso singolarmente ma ha senso preso dopo un certo numero di ripetizioni della simulazione stessa se volessimo vedere cosa capiterebbe se anziché 12 auto ne avessimo solo che ne so 8 e avrei il numero di soddisfatti che è decisamente giro direttamente su valori superiori se volessi avere invece 0 clienti insoddisfatti non so mi bastano 15 auto spendo un po' di più però allora qualcuno 1 0 2 c'è sporadicamente 3 0 non mi basta ancora sulla base dei numeri che ho io so già che devo avere almeno 18 auto 3 all'ora perché al massimo stanno fuori 3 ore infatti con 18 auto mi aspetto che gli soddisfatti sia sempre pari a 0 adesso in questo caso l'ho potuto calcolare sapevo mente che doveva fare 18 e non ha senso comprare 19 perché non lo userò mai con questo modello però se il modello è più complicato se decidessi che gli utenti non arrivano esattamente ogni 10 minuti ma arrivano con una distribuzione diversa e che la durata del noleggio può essere diversa non riesco a più calcolare a mano fare 6 per 3 18 6 gli utenti all'ora per 3 ore di noleggio e avere un numero certo e lo scoprirò invece provando a variare i parametri e vedere che i risultati saltano fuori dopodiché uno dice mi conviene spendere per 18 auto ed avere 0 clienti soddisfatti oppure accettare alcuni clienti soddisfatti e risparmiare il costo di 6 auto questo lo decidete voi che siete gestionali però qua ho lo strumento per poterci ragionare su non ti dà la risposta in simulatore alla domanda ti dà lo strumento per capire le conseguenze di varie scelte adesso questo è molto grezzo perché è un main ma voi immaginate che si possono modificare altri parametri che ci sia un frontend grafico questo è il tipo di strumenti che andremo a creare questo è molto semplice perché si basa su un modello basato su una variabile sola le auto disponibili però l'idea è sempre la stessa la struttura del simulatore è sempre la stessa si complicherà un pochino il tipo di eventi si complicherà un pochino la logica di gestione del singolo evento ma cercheremo di lavorare su tipi di problemi che siano riconducibili a questo schema generale ok? allora se non ci sono domande io avrei finito per oggi vi salvo subito su github questo progetto così vedo alcuni sguardi inquisitori perché magari si sono persi alcune linee e ve lo commetto così lo potete consultare per oggi grazie di tutto grazie a tutti grazie a tutti